Belle, esuberanti, pericolosamente sexy. Sono le agenti specialissime della squadra Warrior, pronte a fronteggiare ogni sorta di pericolo, addestrate a sbaragliare i piani o i complotti più segreti, esperte nella lotta corpo a corpo e a risolvere anche le situazioni più scottanti. Burn Up XS, dal lunedì al venerdì alle 22.45 solo su Manga. Elfi, incantesimi, nobili guerrieri, un'isola maledetta, l'eterna lotta tra il bene e il male, amore e odio, realtà e leggenda. Record of Lodos World. Dal lunedì al venerdì alle 22.20 solo su Manga.